Le procedure di allerta istituite per effetto della emanazione del codice della crisi rappresenteranno un nuovo obbligo ed anche un'opportunità per le imprese che saranno tempestive nell'adeguarsi. E' stato questo il tema del forum che si è tenuto presso l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord dove si è discusso del codice della crisi e dell'insolvenza e dei nuovi modelli organizzativi. Infatti con le entrate in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza si parla di 140.000 nuovi incarichi di sindaco e revisore nelle società a responsabilità limitata. Si è parlato della riforma del codice della crisi, dei nuovi limiti di obbligatorietà di nomina dell'organo di controllo e soprattutto dei nuovi modelli organizzativi ai quali l'impresa dovrà attenersi per salvaguardare la continuità aziendale. Si tratta di un vero e proprio cambiamento culturale ed è in questo contesto che si inserisce il ruolo del dottore commercialista. Infatti il dottore commercialista che deve personalizzare i modelli organizzativi a seconda delle richieste dei propri clienti assume un ruolo fondamentale. Si tratta a mio avviso di un'opportunità per noi commercialisti non solo per il ruolo di revisore, infatti saranno nominati tantissimi revisori visti i nuovi limiti e obblighi che prevedono la nomina ma il dottore commercialista rivestirà un ruolo importante anche per la consulenza e l'assistenza che fornirà nell'elaborare e personalizzare i modelli organizzativi. Siamo di fronte a una rivoluzione, il legislatore anche cercando di mutuare quello che era un principio che esiste a livello europeo ma anche puntuato dalla Banca Mondiale ha cercato di venire incontro alle esigenze degli imprenditori cercando di mettere in campo un sistema di allerta che consenta di prevenire quelli che sono fenomeni di insolvenza e di crisi che possono minacciare non solo la situazione patrimoniale dell'imprenditore stesso ma anche i creditori e quindi tutto quello che è il patrimonio che gira intorno all'impresa stessa. L'incontro ha concorso a far emergere la necessità di una vera e propria rivoluzione culturale che deve necessariamente investire il ceto imprenditoriale. La riforma del codice sulla crisi di impresa investirà diverse decine di migliaia di imprese che oggi si caratterizzano per una prevalente conduzione di tipo familiare. In questa direzione i dottori commerciali si sono chiamati a svolgere un delicato ruolo di accompagnamento quindi è una grande occasione sicuramente ma è anche fonte di grandi responsabilità, gravi responsabilità e in tal senso è da salutare con favore l'intervento del Consiglio nazionale finalizzato a limitare la stessa responsabilità a valori predeterminati che siano multipli del compenso pattuito e deliberato. Così come va salutato con favore l'emendamento al decreto crescita annunciato dalla maggioranza che introdurrebbe l'obbligo dell'assicurazione RC per gli amministratori societari. Iniziamo un percorso di aggiornamento e di formazione per i nostri iscritti proprio per dare supporto verso il giusto approccio a questa nuova opportunità di lavoro. Si parla di 140.000 nuovi incarichi di organi di controllo nelle SRL però come sono tanti gli incarichi sono tante anche le responsabilità quindi è il nostro dovere mettere a disposizione degli iscritti supporto sia normativo in termini di procedure da lottare soprattutto per limitare le responsabilità perché come dicevo sono tante le opportunità ma sono anche tante le responsabilità è proprio quindi importante e fondamentale far sì che sia giusto l'approccio verso gli incarichi appunto per limitare la responsabilità perché ci troviamo di fronte a una responsabilità illimitata con il proprio patrimonio a fronte di modesti compensi. Grazie